Musica L'incontro di oggi per il taccuino politico della Campania è con il consigliere regionale Giuseppe Pietro Maisto. Giuseppe Pietro Maisto ha prodato da qualche giorno, forse più di qualche giorno, al gruppo federato Caldoro Presidente in piena autonomia, in piena identità. Ma soprattutto perché ha ritenuto, appena così abbiamo letto, che attraverso il nuovo corso del tato e determinato dal governo Caldoro, in particolare dal Presidente Caldoro, ci sono alcuni segnali che sembrano essere positivi, di andare nella direzione di risolvere quelli che sono i problemi concreti che attanagliano i campani. I problemi che sono stati sempre a cuore del consigliere Maisto. Qualcuno però all'interno del partito dell'API ha storto un po' il naso. Su questa questione si è aperta anche una discussione che probabilmente è ancora in corso, rispetto alla quale c'è ancora da fare chiarezza. Ma la motivazione di fondo, quella che più di ogni altro ha spinto verso questa decisione, qual è stata? Guardi, innanzitutto bisogna dire che non credo che ci sia bisogno di fare chiarezza. La chiarezza è quando c'è la volontà di accogliere quelle che sono le istanze dei cittadini e di portare avanti quelle che sono dei problemi evidenti. L'ho detto l'altra volta, lo ripeto anche adesso, è cambiata la politica. L'avvento di Monti e il percorso politico di Alleanza per l'Italia, che ha partecipato alle regionali all'opposizione e ha partecipato alla convenzione attuale a Napoli come terzo polo, ha avuto seguito poi a livello nazionale con l'adesione al progetto Monti. Cosa significa questo? Significa che la politica è in forte dinamicità, non c'è più un vincolo tale che non può permettere di ragionare su programmi e su idee chiare. Questo è accaduto. È accaduto che oggi c'è l'assunzione di responsabilità su quello che c'è da fare, su quelle che sono le progettualità di una nuova campania, su quello che è un problema attuale. Nascondere la testa sotto la sabbia e far finta che questi problemi debbano essere esclusivamente del presidente Caldoro o della sua maggioranza, non credo che ciò sia il bene per i cittadini campani. C'è bisogno di assunzione di responsabilità, ma non credo che sono l'unico consigliere che fa delle riflessioni su quelli che sono dei programmi. Anche il Partito Democratico negli ultimi mesi ha dimostrato che su atti, programmi e su quello che ritiene di poter essere valido per la regione campania ha votato anche a favore della maggioranza. Forse non proprio a favore, si è assenuto, ma ha permesso che la maggioranza approvasse alcune norme. Quindi mettere dei paletti, degli ostacoli o mettere i paraocchi in questo momento non credo che sia un bene. Il bene oggi è quello che la politica si assume alla responsabilità, si rende conto di quello che è un malcontento da parte della gente che ne fa tutto il buon fascio e allora ecco che bisogna ritornare all'essenza della politica, affrontare i problemi, progettare, programmare e dare la speranza e la possibilità ai cittadini di poter dire e di essere orgogliosi di essere campani. Questo è quello che dobbiamo assolutamente mettere in campo. Ecco, lei proprio per determinare, questo lo vogliamo dire perché insomma l'abbiamo appreso anche dal sito del consigliere Maisto che facciamoci anche un po' di pubblicità, al sito www.giuseppemaisto.it che ci sono, è stata presentata una proposta di legge regionale proprio per restare nel concreto di quelle che sono le esigenze reali e primarie dei cittadini. Qualcuna è in itinere che riguarderà probabilmente le eccellenze della campagna, come fatto anche di Exportec, poi se lei riterrà ce ne parlerà. Ma parliamo di quella che già in qualche modo è stata avviata un iter e che riguarda un problema molto particolare soprattutto nella città di Napoli ma non solo nell'intero territorio regionale. Stiamo parlando di quelle strutture cosiddette storiche, locali storici. Ecco, di che cosa si tratta in buona sostanza? Guardi, sono diverse le proposte di legge sulle quali stiamo lavorando che produrremo di qui a breve tempo che si baseranno soprattutto sui temi importanti e che sono attuali. Quella che è stata presentata qualche giorno fa è quella sui locali storici. È noto a tutti che c'è una difficoltà per i commercianti e per i gestori di locali storici nell'ultimo periodo particolarmente ma c'è anche e soprattutto per tutti i commercianti, ma credo che per salvaguardare e per dare una progettualità futura è interessante e prioritario far sì che questa regione possa tirar fuori da quello che è la sua storia anche un futuro lavorativo. Ed ecco che nasce questa proposta di legge, una proposta di legge che va verso i locali storici, locali che sono presenti sui territori da più di 70 anni e che prevedono una serie di iniziative a favore di questi locali storici. Ovviamente è un qualcosa che stiamo ancora mettendo a fuoco, è stata presentata la legge ma è certamente da limare e da accogliere tutte quelle che sono i consigli che verranno fuori. Non nascondo che sarà probabilmente presa a cuore dall'intero gruppo del federato ultimo al quale ho partecipato. perché? Perché è un'iniziativa che probabilmente va incontro a quelle che sono i cittadini. Inoltre ne approfitto perché ci sono anche altre iniziative che stiamo mettendo a fuoco e che a breve presenteremo su quello che sono i prodotti della campagna e il modo di poterli proporre anche fuori dalla campagna e all'estero. Sono iniziative sulle quali stiamo lavorando. Stiamo lavorando, devo dire la verità, con grande passione proprio per dimostrare che quello che a noi sta a cuore sono gli interessi dei cittadini della campagna. Io ne approfitto, forse gliel'ho detto già, ma ne approfitto anche per essere chiaro nei confronti di quanti ci ascoltano. Io sono pronto a confrontarmi con chiunque del mio partito e gli altri partiti per dimostrare e per confrontarmi in ogni luogo per quelle che sono le idee e le prospettive di questa adesione al gruppo federato. Perché non c'è niente di nascosto, non ci sono poltrone in ballo, non ci sono dei riscontri alla mia persona. Io sono trasparente e sono pronto a confrontarmi con chiunque riterrà opportuno fare delle riflessioni. Perché quello che mi affascina di questo gruppo federato sono le idee. Idee chiare per un futuro migliore e per una campagna più partecipe a quello che è uno sviluppo da realizzare a breve. Veniamo a qualche ultima novità politica, in particolare al rispolverarsi all'interno dell'opposizione della figura del capo dell'opposizione. Figura del capo dell'opposizione che, diciamo, statutariamente è affidata a chi perde le elezioni da candidato presidente. Il caso, per esempio, ultimo di De Luca, oppure in assenza, se appunto come è successo, De Luca è andato via, a un rappresentante che viene scelto, dovrebbe essere scelto, almeno nella logica, dall'intera opposizione o parte di essa. Sembra che un minimo accordo ci sia intorno alla figura del consigliere del PD De Caro e che vede coinvolto anche Italia dei Valori, ovviamente, è SEL, Partito Socialista Europeo, chiedo scusa, oltre al PD evidentemente. Come viene recepita questa voglia di creare questa nuova figura? Qualcuno dice che probabilmente è un regolamento di conti all'interno del PD, qualcun altro invece dice no, è soltanto perché serve per creare maggiore vivacità e per creare una nuova opposizione che finora partecipe in particolare il PD e i DV da una parte e PSI dall'altra. Sarà questo un modo per avere più compattezza, secondo lei, dell'opposizione? O c'è qualcos'altro? Beh, questo io posso immaginare che praticamente ci possa essere una ritrovata unità all'interno del centro-sinistra perché il capo dell'opposizione ovviamente rappresenta l'intero centro-sinistra, non può essere il candidato del PD né tanto meno di Italia dei Valori o del PSI. I fatti lo diranno nelle prossime giorni, forse nelle prossime ore. Le posso solo dire che il candidato di cui si parla e che è stato portato all'attenzione anche dai giornali, l'avvocato Basso De Caro, è una persona squisita, eccezionale e che credo possa rappresentare in modo veramente egregio l'intera opposizione. Su questo ne sono certo perché è una persona veramente di spessore. Poi le dinamiche interne del PD o di Italia dei Valori o di altro, beh, credo che possa essere poi questo, posso dar luogo ad una compensazione tra quelle che sono state poi anche le passate elezioni delle commissioni, delle mancate commissioni date a Italia dei Valori oppure a privilegi date a questo, a quel partito. Ma sono delle dietrologie che possono conoscere soprattutto quelli che hanno partecipato in questo periodo a quella che è la costruzione, tra virgolette, dell'opposizione. E su questo ne approfitterei per dire che nonostante l'API ha partecipato attivamente all'elezione due anni fa, in questo periodo, nei due anni, non è stata mai invitata all'opposizione adducendo una nostra appartenenza al terzo polo. Questo è uno dei motivi che ovviamente va tenuto nella giusta considerazione perché nelle riflessioni che vanno fatte, va messo anche questo, in cui l'API non era considerata né opposizione né maggioranza perché c'è questa posizione di terzo polista nazionale che ovviamente qui sul territorio a convenienza da parte di uno o dell'altro viene utilizzata per tenerci fuori da ogni tipo di riflessione e ragionamento.